Di nuovo appuntamento da qui al 12 e 13 giugno con i referendum, questa sera abbiamo due ospiti, ovviamente chi è schierato per il no, chi è schierato per il sì, parleremo in parte di nucleare ma per lo più di referendum legati all'acqua e i nostri ospiti sono Vincenzo Pepe dell'associazione Fare Ambiente e Valerio Balzametti del comitato promotore per i referendum abrogativi sull'acqua. Una materia così complessa qual è quella dell'energia nel nostro paese non può essere decisa sull'onda delle motività, poi del resto io penso che questo referendum molto demagogico, molto politicizzato è molto provinciale perché in questo momento l'energia di questo studio dal 10 al 15% è nucleare, quindi dire che noi non vogliamo il nucleare in Italia e poi andiamo ad acquistarlo a confine dove vi sono 26 centrali a meno di 100-200 km mi sembra molto demagogico, il problema dell'energia è un problema serio che comprende il mix energetico sicuramente, ma io sono un po' contro l'ambiente, noi siamo il presidente nazionale di Fare Ambiente che è un movimento ecologista europeo, quindi riconosciuto dal Ministero, dall'Europa e riteniamo che è demagogico dire no a priori perché l'energia comporta sempre un rischio, la domanda che noi ci poniamo è qual è il rischio minore per una buona qualità della vita, dire che il rischio zero è inesatto e dire che noi poi dobbiamo fare, noi siamo per il mixer, dobbiamo fare tanto solare, dobbiamo fare tanto eolico, ma lei lo sa in questo momento quanto eolico noi facciamo? Zero virgola qualche cosa, lei lo sa quanto fotovoltaico facciamo in questo momento? Zero virgola qualche cosa, cioè nel senso mi sembra talmente demagogico, noi siamo per fare tanto, provi lei a fare un barco eolico da qualche parte in Italia, provi, io ci ho provato perché ho sollecitato due parchi eolico, mi sono dovuto ritirare perché su un barco eolico in Molise la sovrintendenza ha detto che le pale eolico disturbano il latte delle pecore e quindi non si può fare il parco eolico, cioè questo è abbastanza demagogico perché noi compriamo tutta l'energia possibile immaginabile, compriamo il petrolio, compriamo il gas, compriamo il nucleare a confine, il che ritengo che è eticamente scorretto fare un referendum dove si dice che noi dobbiamo essere contrari, allora dobbiamo essere contrari anche al giardino del vicino, perché questo è tutto all'italiano, cioè non nel nostro giardino, andiamo a comprare dal vicino. Passiamo a discutere di acqua, anche se però un minimo di riequilibrio. Devo dire che in Italia muoiono 8 mila persone ogni anno per le polveri sottili dovute dai trogarburi, non ho visto nessuno che ha alzato il dito e dire dobbiamo bruciare meno un petrolio. Beh questo però non è proprio vero perché comunque c'è un certo mondo ambientalista che si preoccupa anche di questo. Non me ne sono accorto. Ora da questo punto di vista però passiamo a discutere di acqua, ovviamente se Balzametti vuole aggiungere qualcosa rispetto al nucleare per riequilibrare un pochino il tempo, questo è possibile, però partendo dal presupposto che comunque l'Italia ha uno dei servizi idrici più disastrati in assoluto in Europa rispetto alle perdite di acqua, si dice sempre gli investimenti, il pubblico da questo punto di vista sembra che possa far poco in una situazione economica come quella che viviamo e quindi fare a meno completamente del privato può aver senso o no? Questa è una delle principali accuse che vengono fatte quando si discute di questo tema. Ma allora innanzitutto una piccola precisazione sui diciamo i confini geografici nel senso che chiaramente non capisco bene perché si parla rispetto al nucleare di un'attenzione provinciale visto che è un dibattito a livello globale e che grandi nazioni dalla Germania alla Svizzera si stanno ponendo il problema di chiudere le centrali nucleari. Penso che lo stesso Giappone si stia ponendo questo problema e penso che in linea di massima l'intero mondo globalizzato si sta ponendo il problema delle nuove tecnologie per diciamo sfruttare l'energia solare e altri elementi atmosferici per generare energia, per superare il nucleare ma anche quello che conosciamo, il mondo che gira intorno al petrolio e tutto quello che conosciamo fino ad oggi. è giusto fare ricerca, pensiamo che sia utile farlo in questa direzione che fino ad oggi appunto sappiamo che probabilmente ha qualche rischio ma certo non ha il rischio di migliaia di morti come è stato appunto come e di diciamo radiazioni come a Cernobillo o a Fukushima. Detto questo, per quanto riguarda i privati, in questo paese diciamo che in realtà il problema sono anche i privati, sono il coraggio che se hanno o meno una capacità imprenditoriale. Lei diceva giustamente che i sistemi idrici in Italia effettivamente sono da riammodernare e questo è un'assoluta verità. Quello che non si capisce bene è perché lo dovrebbero fare i privati e il punto è che quello è un bene pubblico, è un bene che porta una fonte di vita, si dice, essenziale per tutti quanti come l'acqua. Non si capisce bene perché noi lo dovremmo affidare i privati, soprattutto se uno mette a confronto i dati con gli ultimi 15 anni dove in Italia è avvenuta una privatizzazione perché la stragrande maggioranza degli enti che gestiscono i nostri acquedotti sono S.P.A. al di là della loro diciamo quote di... C'è una grande partecipazione pubblica. Sì, però è evidente che la forma di gestione di un S.P.A. che non è scelta a caso è perché sta sul mercato. Quindi in questo senso chiaramente è un'istituzione privata a tutti gli effetti che ha uno scopo ben preciso che è quello di far profitto. Ma questo non lo dico io, lo dicono i manuali di economia. Allora a questo punto la questione è questa. Siamo così sicuri che chi ha come obiettivo principale quello di far profitti ha poi a cuore che il servizio funzioni bene e invece non preferisca risparmiare e che la qualità, quindi i depuratori per esempio siano effettivamente fatti come investimenti e invece non si preferisce risparmiare o la manutenzione e quindi la manodopera venga effettivamente incrementata, tutelata e via dicendo e invece non si preferisce risparmiare perché è chiaro che per far profitto da qualche parte bisogna pur tagliare delle voci. E da questo punto di vista 15 anni in Italia la dicono molto lunga e lo sanno bene tutti i cittadini in cui hanno i cittadini di quei territori in cui i servizi sono stati privatizzati. Da questo punto di vista c'è una domanda che nasce in modo spontaneo da quello che diceva nel senso che come è possibile garantire anche attraverso la presenza dei privati della correttezza rispetto ad un bene che è un bene comune. Guardi ci sono gli strumenti giuridici per fare questo, in che senso? Ecco questa è la follia della demagogia questo referendum definito sull'acqua, no? Il referendum è sui servizi pubblici locali che significa gestione dell'acqua, non l'acqua per sua natura deve essere per forza pubblica, ma gestione dei servizi significa la gestione del servizio di nettezza urbana, significa i trasporti. Allora voi immaginate che in un gestione dei servizi non possono entrare i privati, nei trasporti non possono entrare i privati, ma questo è contro l'Europa, è contro la libertà di concorrenza. Altro è il problema del controllo del pubblico, nel senso che il pubblico per fare entrare un privato deve fare il capitolato di appalto. Nel capitolato di appalto può benissimo inserire tutti gli strumenti di controllo, di efficienza, di qualità del servizio e se il privato che entra, entra per una maggiore efficienza, una maggiore trasparenza, maggiore qualità del servizio, non ottempera a questi requisiti, a questi obiettivi può benissimo essere revocato la concessione del servizio. Ma questo lo fa tutta Europa, ma lo facciamo anche noi attualmente, quindi io la demagogia di questo referendum non riesco proprio a capirla, non riesco a capire perché il privato controllato, anzi io ritengo che il pubblico deve nel momento in cui fa il capitolato dire che date che l'acqua è un bene prezioso, ai meno abbienti deve andare 30 litri di acqua senza essere pagato, ai meno abbienti i trasporti devono essere gratuiti, per quanto riguarda i servizi di nettezza urbana deve essere dell'agevolazione ai meno abbienti, ma questo è sempre il pubblico che lo determina. Quindi da questo punto di vista secondo lei è stato un problema del pubblico nei confronti dei privati che già stanno nella gestione? Ma attualmente c'è un problema, le municipalizzate, ma lei legge i giornali, c'è le municipalizzate attualmente dei servizi pubblici, sono il ricettacolo, il ricettacolo di clientelismo che non dà efficienza, non dà qualità, dà tariffe altissime, ricettacolo di che cosa? Di quel clientelismo bieco dove vengono assunti i figli dei figli, i nipoti e sino anche gli amanti. Noi riteniamo che fosse un po' di privato dentro, ci sta bene, perché un po' di privato? Perché il privato deve remunerare il proprio capitale, quindi deve avere la qualità, l'efficienza, anche perché se non raggiunge questi obiettivi il pubblico può eliminarlo, può revocare, ma questa è la logica europea della libertà di concorrenza, per avere una buona qualità. Pensi anche alla gestione dell'acqua, lo sa che dal 40 al 50% della risorsa preziosa acqua si perde nelle tubature, perché le nostre infrastrutture, i nostri acquedotti sono obsoleti, hanno delle perdite eccessive e lo Stato, il pubblico, non ha i soldi da investire per ammodernare le tubature, quindi le infrastrutture, per avere anche una buona qualità del servizio. Ma lei sa che, anche a casa mia, ma penso che gli italiani vanno al supermercato a comprare l'acqua in bottiglia, ma perché comprano con un onere nel proprio bilancio familiare? Perché ritengono che forse la qualità di quella del rubinetto a Porto Ragione non lo so, non è buona di qualità e quindi vanno a comprare. Noi vogliamo invece che si realizzi il principio europeo, che il privato entra dentro per realizzare una qualità e investire. Parliamo proprio di soldi a disposizione. Ovviamente voi vi sarete interrogati su come è possibile che il pubblico intervenga al posto del privato nella gestione, dove reperire le risorse di fronte ad una situazione, lo dicevamo prima, economicamente abbastanza drammatica con le corde della borsa del Ministero competente che non si aprono perché comunque di soldi sembra che ce ne siano sempre meno. Quindi com'è possibile? Le amministrazioni direttamente poco possono intervenire perché i bilanci sono disastrati, quindi? Allora, innanzitutto diciamo che bisognerebbe innanzitutto chiedere perché garantiamo allora il 7% di profitto ai privati o nel futuro ancora di più ai privati. Perché quindi non investono, se non hanno democrazioni del capitale. Diciamo che è un mercato strano dove viene garantito un profitto del 7%, nel senso che chi fa un investimento come privato si assume il rischio di impresa. In questo caso invece dice no. Quindi non si capisce bene perché appunto i cittadini debbano garantire questa percentuale ai privati. Primo. Secondo, si fa riferimento all'Europa. L'Europa per fortuna ha detto che ogni Stato è libero di scegliere la sua forma di gestione e sempre l'Europa ci dice che lì dove con delle storie molto più lunghe di privatizzazione si è invece cambiato strada e si è tornato al pubblico. Quindi c'è già un'indicazione dai nostri diciamo vicini di casa. Terza cosa, dove reperire i fondi. È chiaro che quello a cui si fa riferimento è l'utilizzo della finanza pubblica, degli strumenti della finanza pubblica. In Italia, e questo lo scrivono i professori universitari, purtroppo gli strumenti di finanza pubblica vengono usati poco e male nella gestione delle risorse. È sicuramente vero che ci sono una serie di strumenti che sono possibili, come appunto la Cassa Depositi e Prestiti, che è possibile chiamare in causa per quegli investimenti con una restituzione chiaramente ventennale o trentennale o comunque immaginata in una restituzione del futuro, visto che comunque i cittadini saranno comunque loro ha chiamati a pagarli. In questo caso loro pagherebbero di meno e sarebbe la finanza pubblica che se gestita chiaramente in maniera accorta, chiaramente ridistribuisce giustamente in un sistema di benessere. Poi questo cozza un po' con il pato di stabilità. Alcuni enti, alcuni comuni non possono fare ulteriori investimenti perché rischiano. Lo può fare lo Stato e lo può fare anche utilizzando meglio quella che è la leva fiscale e soprattutto rispetto all'evasione fiscale. Questo è un piccolo capitolo che si scorda sempre che sono quei stessi privati grandissimi, non parlo dei piccoli e dei medi, siano cittadini o piccoli imprenditori, ma i grandissimi evasori che appunto sono fuori dal riuscire a recuperare il debito che poi viene creato. Dal punto di vista, anche Confindustria è intervenuta, Marce Gaglia nell'ultima assemblea ha detto noi vogliamo intervenire anche nella gestione dei servizi pubblici. Però certo, una nota stonata un po' teoricamente ci potrebbe essere. È quella che si diceva, che diceva prima Balsametti, il fatto di partecipare ad un rischio d'impresa avendo già assicurato un 7% di utile, non è un po' strano comunque? Lei come privato deve fare un investimento, deve prendere delle proprie risorse economiche e ammodernare una struttura. Vuole la remunerazione oppure serve a fare un'altra cosa? Non proprio così però, perché quando uno investe da punto di vista imprenditoriale... è capitolato che quello viene dato in appalto, quindi è capitolato benissimo... Diciamo che questa è una visione all'italiana del rischio d'impresa. Nel capitolato di appalto possono essere messe clausole, perché è il pubblico che le fa... Quindi un 7% che è garantito... Possono essere delle clausole con cui si stabiliscono alcune cose, che la remunerazione c'è fino a X, che invece viene revocato il tutto quando non si... Io ti voglio dare, non il 7, ma ti voglio dare il 10, il 15, perché tu mi raggiungi un obiettivo che è quello di efficienza del servizio, che i meno abbiendi hanno agevolazioni, la qualità del servizio, recuperi un 40% di acqua. Ma io non voglio parlare di acqua, scusate, perché è demagogico dire che gli italiani devono andare a votare per dire che l'acqua è pubblica o l'acqua è privata. Questa è la follia dei partiti, nel senso che i partiti che hanno molto montato questi referendum per il consenso, ma a loro non interessa proprio il tema, tant'è che demagogicamente qua si viene a parlare, acqua pubblica, acqua privata, invece noi dobbiamo parlare della gestione dei servizi pubblici locali, che non è solo la gestione dell'acqua e dell'acquedotto, che sono i trasporti. Perché non parliamo, diciamo, ma un privato può entrare nella gestione di un servizio pubblico di trasporti? Perché no? È il pubblico che dice i termini e i modi. Ma voi immaginate la gestione di rifiuti dove si dice al privato, che vuole entrare nella gestione. No, tu non puoi entrare nella gestione. Ma mi sembra una cosa che sia contro i principi europei della libertà. Noi siamo un movimento ambientalista di ispirazione liberale e riformista e quindi riteniamo che è fondamentale la libera con il massimo del controllo da parte del pubblico. Mancano pochi secondi, quindi domanda secca. Dunque lei, Pepe, andrà al voto per votare no o non andrà al voto? Io invito a votare no all'abrogazione. Ma se si va al mare e si si astiene, forse si fa un servizio a questo paese. Perché sull'onda dell'emotività o della demagogia di questi referendum non si risolvono i problemi dell'Italia. Balsametti? Ma sicuramente noi andremo a votare per rispettare un diritto e garantirlo. e voteremo chiaramente due sì per l'acqua. E lo faremo proprio perché questo è un movimento che nasce dal basso, dai territori, dai cittadini e dalle cittadine e assolutamente non dai partiti, ma da quelle persone che conoscono bene che cosa vuol dire la gestione dell'acqua e che sanno bene che vuol dire privatizzare l'acqua. Bene, io ringrazio Valerio Balsametti del Comitato Promotore per l'abrogazione della legge rispetto alla privatizzazione di gestione. Però io devo fare privatizzare la gestione. La gestione, la gestione. Perché significa un'altra cosa, privatizziamola, questo è il contrario. Io sono, possiamo eventualmente parlare di privatizzare della gestione, che è un'altra cosa. E grazie a Vincenzo Pepe dell'Associazione Fare Ambiente. Noi ci rivediamo presto con altri appuntamenti legati ai referendum. Grazie. Grazie a tutti.